E' tutto un inganno, signore e signori, perché nelle metamorfosi di Kafka in realtà non c'è nessuno scarafaggio, quindi le certezze della nostra vita sono crollate, direi, dopo anni e anni a sentire il fatto che Gregor Samsa, il protagonista di questo testo, si sia trasformato in uno scarafaggio. Ora, diciamo fin da subito, è questa la traduzione che noi troviamo effettivamente, non solo in italiano, ma anche in una serie di altre lingue, ma a ben vedere nel testo originario non si parla di scarafaggi. Se non mi conoscete, io sono Francesco Toniolo, sono un professore universitario, mi occupo di videogiochi, che con le metamorfosi di Kafka non c'entra tantissimo, ma di recente stavo leggendo questo libro qui, nel castello interiore di Santa Teresa d'Avila, che a sua volta non c'entra tantissimo con le metamorfosi di Kafka, direte voi, ma in realtà veniva introdotto, c'è un saggio iniziale, che ha come titolo L'inaccessibile castello da Franz Kafka a Santa Teresa, e andava a fare un parallelismo tra appunto gli scritti di questa santa e quelli, alcune delle opere di Kafka. E c'era di mezzo, anche ovviamente alle metamorfosi, e ritornava fuori questo discorso. E quindi ho detto, ma sì, dai, perché non fare una pillola estiva in cui dire un po' questa cosa qui? Che sono sempre quelle cose curiose, un po' un'altra volta mi era capitato di fare un video di passaggio sul fatto che nella commedia di Dante non c'è scritto da nessuna parte la famosa frase non ti curare di lor, che in realtà è un po' diversa, però vabbè, quello è un altro discorso. Comunque, il nostro Kafka utilizza principalmente due termini. Io, tra l'altro, perdonate il mio tedesco, non ho mai studiato tedesco, quindi abbiate pietà se la pronuncia non è perfetta, ma uno di questi è Ung Ziffer, che vuol dire parassita, quindi ha un significato più ampio e più esteso. Poi certo, lo scarafaggio è un po' uno dei parassiti per eccellenza a cui siamo abituati e evoca molto bene per tante persone questa immagine anche di un qualcosa di schifoso, di disgustoso, assolutamente sì, però appunto qui ha un senso più ampio e tra l'altro era anche un termine con una potenziale valenza antisemita, perché oltre a essere utilizzato per gli effettivi concreti parassiti veniva anche impiegato in questo modo dispregiativo. Quindi, già questo è curioso, e poi un altro termine che appare, che viene impiegato dal nostro caro Kafka per descrivere questo essere in cui Samsa si è trasformato, è Antir, che sarebbe sostanzialmente un mostro, anche qui. Però la cosa curiosa da vedere qui è che questo un iniziale sarebbe una sorta di negazione, quindi va a dire che è un non animale, quindi di base è un termine che ha questo suo statuto, non è un termine inventato da Kafka, però volendolo si può scomporre in questo modo. E questo lo trovo molto curioso, effettivamente, perché è un po' come dire che appunto il nostro Samsa non è più un umano, e fin qui ci siamo, questo anche nell'immagine dello scarafaggio emerge molto bene, ma non è neanche dentro al regno animale, cioè è come se rimanesse bloccato a metà strada, quindi un qualcosa di mostruoso. Alla fine cos'è il mostro, se andiamo a pensarci? Monstrum, non anche in latino, va a indicare il prodigio, quindi un qualcosa che esce al di fuori dalle leggi della natura, e quindi se si fosse trasformato in un animale per quanto spreggevole, sarebbe comunque rientrato all'interno di quello che appunto è il regno animale, che ha comunque una sua dignità, ha una sua logica. Invece qui è come se restasse bloccato tra due mondi. Questo è molto curioso in effetti, e quindi, niente, voglio condividere questa rapida riflessione estiva, mentre fa un bel caldo, infatti non ho neanche la mia solita giacca dei Pokémon, che di solito ho per i video, se già mi seguite lo sapete, perché appunto le temperature sono un po' alte, ma adesso dai, tra un po' arriverà a settembre, tornerà la giacca dei Pokémon, torneranno un po' di contenuti, e magari chi lo sa, se mi gira, farò anche un po' di cose sulla letteratura, perché no? Magari sui promessi sposi, che mi sono sempre piaciuti. Chi vivrà, vedrà.